ciao a tutti speriamo che la registrazione quadro venga decorosamente di cosa vi volevo parlare vi volevo parlare di un argomento che tocca da vicino me come tante operatori al di là del fatto che tocca chiaramente tutta la popolazione ma tocca particolarmente gli operatori perché è un tema che non è conosciuto da tutti anche se come per tutte le attività del servizio sanitario nazionale è un tema al servizio di tutti che è quello del 118 sapete che sono medico d'emergenza lavoro al 118 mi dedico al soccorso da tempo in memoria ormai sono più di 20 anni ho cominciato ben prima di iniziare medicina e proprio ieri sera e anche questa mattina parlavo con alcuni colleghi medici infermieri autisti soccorritori che mi dicono e mi riportano alcune considerazioni che vengono fatte all'interno dei comizi elettorali dei degli avversari delle varie liste di centro sinistra in particolare pd ma non solo anche di altre liste diciamo dell'altra attenzione tema cardine è quello del 118 tema delle automediche tagliate ora quali sono i mantra che vengono raccontati i mantra che vengono raccontati sono che si sono chiuse e questo l'ho sentito con le mie orecchie le automediche sottoutilizzate tra virgolette altro è possiamo tranquillamente far fare solo a personale infermieristico determinate attività perché come mi è stato riferito in un recente incontro che ci sarebbe stato in appennino alla domanda della cittadinanza scusi ma questa questione della chiusura automedica guardate quello non è un problema è tutta una cosa che viene montata ma nella realtà addirittura l'esempio che mi è stato riportato è stato questo un mio amico un mese fa ha avuto un infarto e in realtà è andata un'ambulanza e anche senza automedica poi è arrivato l'elicottero il paziente si è salvato cioè racconti che per la popolazione sono un qualunquismo mostruoso privo di qualunque base tecnico scientifica magari raccontando episodi aneddotici no quindi parlando del particolare per il generale cose inaccettabili da un punto di vista di metodo e da un punto di vista scientifico vi faccio degli altri esempi che mi sono giunti alle orecchie che mi sono stati riportati uno di questi che mi è stato particolarmente a cuore tra cui candidato che dice che praticamente bisogna scegliere detto se voi doveste scegliere quindi candidato dell'opposizione cioè della lista avversaria che dice alla platea se voi doveste scegliere vorreste un infermiere esperto o un medico neolaureato e ovviamente una popolazione che non è della materia che non è specificatamente preparata sul tema rimane no si lascia prendere da questa retorica facile e ovviamente però qualcuno poi arriva a ragionare a rispondere e a spiegare che se si arriva a fare questa domanda significa che si sono sbagliati completamente i 15 20 anni di programmazione precedente perché qualunque amministrazione non può presentarsi ai cittadini dicendo dobbiamo scegliere scegliamo o un infermiere esperto con anzianità o un medico neolaureato perché se tu arrivi a dover far fare questa scelta e tu la proponi ai cittadini vuol dire che hai sbagliato tutto negli ultimi 15 anni bisognerebbe dire comunque se quello fosse l'unico punto di caduta come in alcuni casi è per via dell'indecenza della programmazione che c'è stata bisognerebbe dire che li voglio entrambi nel senso che ciascuno chiaramente per la propria pertinenza deve lavorare in equip per il miglior soccorso possibile al paziente ma è concettualmente assolutamente assurdo sbagliato nel metodo e nel merito mettere i cittadini davanti a questo tipo di scelta voglio un equip anche perché scientificamente quello che emerge in tutte le raccomandazioni è che determinate situazioni vanno gestite da un equip di soccorso sufficientemente numerose in termini di operatori e ovviamente di professionalità il programma che c'è con elena ogolini sull'emergenza urgenza è cristallino riallineare e riarmonizzare i rapporti dei mezzi di soccorso dei mezzi di soccorso base col personale volontario dei mezzi di soccorso infermieristici dei mezzi di soccorso con medico infermiere quindi mettendo tutta la catena con un rapporto e una parametrazione armonica per far sì che al cittadino che abita sul cucuzzolo della montagna oppure sulla pianura o nel centro città si possa garantire in caso di emergenza un livello di risposta appropriato e coerente non ci possiamo accontentare di dire alle persone sì ma tanto è andata bene anche se è arrivato solo questo o solo quello non è questo l'obiettivo a cui nessuna politica dovrebbe puntare ma dobbiamo piuttosto garantire che ci sia armonia nei percorsi e ovviamente questo è alla base non solo dei criteri dell'emergenza urgenza ma anche di tutte le cure primarie e anche di tutta l'emergenza ospedaliera tra cui appunto i pronto soccorso che oggi meritano una riparametrazione del personale che significa che bisogna andare a vedere struttura per struttura bisogna andare a vedere tipologia di pronto soccorso o punto di primo intervento dipartimento emergenza urgenza e andare a capire qual è non solo il volume di pazienti che arrivano ma anche la complessità dei casi in gestione perché è evidente che un ospedale grande un centro di riferimento come può essere un ospedale grande della città ha mediamente da convogliare su di sé tutti i casi più complessi di tutto il territorio anche provinciale dove ci sono ospedali più piccoli che non riescono a gestire quelle complessità perché non hanno tutte le strutture tutte le specialistiche per farlo conseguentemente questa riparametrazione deve essere necessariamente uno dei primi punti nella nuova organizzazione del sistema sanitario regionale per far sì che i carichi di lavoro siano sostenibili e che ovviamente le file vengano come dire gestite senza delle code assurde questo comporta anche un ragionamento sui posti letto una ridistribuzione appunto delle risorse letto perché non possiamo avere boarding infiniti perché non abbiamo i posti letto per ricoverare i pazienti e via discorrendo detto questo invito tutti coloro che seguono e che continuano grazie anzi delle segnalazioni a segnalarmi queste cose a fare delle riflessioni a riportarle a anche ai colleghi delle liste avversarie perché laddove ci sono delle posizioni sostenibili che magari vengono gestite con una retorica che ovviamente il cittadino medio fa fatica a controbattere e a discutere perché magari si occupa di altro di lavoro ed è già questa materia difficile di organizzazione sanitaria per gli operatori stessi vi invito a farcelo sempre presente a richiederci a ingaggiare anche queste discussioni nel corso degli incontri che avremo e appunto a stare attenti a questi dettagli che sembrano ininfluenti ma che sono in realtà la sostanza di tutta la questione. Grazie e seguite condividete questo video e al prossimo